a tutti amici benvenuti siamo qui oggi per attaccare arroyo questa sarà la nostra ultima nazione a cadere prima di attaccare r andiamo cosa sto vedendo cosa sto vedendo quando non c'è fretta attenzione lo fogo farò io le nostre perdite sono state causate da una battaglia con una piccola banda guidata da un uomo con la divisa no come da invont 13 in poche parole ci sta dicendo che in chosen one finalmente è morto e finalmente l'abbiamo massacrato e finalmente devo ricordare la posta di donore grig e non dobbiamo mostrare nessuna pietà questo sto dicendo il messaggio quanto manca se poi sbagliate da attaccare adesso non mi devo attaccare adesso perché adesso avrò un altro pezzo da coprire è stato stupido stavolta questa questa non ha potesse giocata male questa caccia questa potrebbe aver una sbagliata potete ben vedere avere nare l'urso fa questo effetto qua divisione l'organizzazione meno trenta per cento attrito più cento per cento stabilità meno trenta divisione di attacco meno trenta e la difesa meno trenta per cento cioè mi massacriamo praticamente attenzione noi ci attaccano a bestia qua dobbiamo severamente attaccare dobbiamo essere forti eh ma qua secondo me non ce la facciamo può essere la miglior difesa dell'attacco proviamoci proviamoci è un grande bordello è una grande scommessa però credo che possiamo farci però dobbiamo crederci scendi senza è caduta benvenuti benvenuti ci servono tutti gli uomini possibile forza forza salutiamo regus forza avanziamo ok Grazie a tutti. Come fanno a essere noiosi le cose? Se stiamo combattendo! Cosa? Come hanno fatto a passare? E vai, Pucatù! Forza, in massa! Abbiamo poco tempo! Forza, puttana! Non attacca mai da solo! Non c'hai l'armatura! Fermi! Ma come inverti a solito? Vaffanculo! Fermi, fermi! Come, ciao! Forza, semplicemente! Non so, ma l'armatura! Non so, ma l'armatura! Non so, ma l'armatura! Perchè? Non so, ma l'armatura! guardiamoci come un uomo questo è l'enclave maincom non si muove, soldi! ah, questo è un nuovo perfetto un po' più momenti e poi avrò la tua slinga puoi dire questo ancora è proprio imparato un team di verde a tua locazione chi è questo? il presidente? ah ah questo è l'enclave maincom questo è l'enclave maincom ah, questo è l'enclave quanto tempo ancora mamma mia questo è l'enclave maincom non non questo è l'enclave maincom questo è l'enclave maincom l'enclave maincom è l'enclave è l'enclave è l'enclave è l'enclave l'enclave è l'enclave è l'enclave è l'enclave è l'enclave Enclave here Enclave here The fucking president's watching us like a hawk Yeah This is Enclave maincom Yeah Everything's always tighter out here to Enclave Okay, we can do it, we can do it How much is missing? 150 games Why isn't your video feed working? I see Enclave here Why isn't your video feed working? Enclave here Everything's always tighter out here at Enclave I see That's a no one Who the hell is this? The president? Ah You look Why isn't your video feed working? The fucking president's watching us like a hawk The fucking president's watching us like a hawk Molto bene Ah damn Ah, that's a no one Enclave here Not moving, soldier! Oh, love me I see And the fucking president's watching us like a hawk Ah, that's a no one Ah, that's a no one Enclave here Who the hell is this? The president? Ah, you look Who the hell is this? The president? Ah, you look Enclave here This is Enclave Maincom Who the hell is this? The president? Ah, you look I see Ah, that's a no one Who the hell is this? The president? Ah, you look I've got you Those paper shuffling jackasses How the hell do they expect me to run this unit If they keep shortchanging me on supplies? Enclave here This is Enclave Maincom Enclave here Grandi Why isn't your video feed working? Davanjo Outstanding Enclave here Quanto manca ancora? Manca poco The fucking president's watching us like a hawk Everything's always tighter out here at Enclave Not moving, soldier! Enclave here I see Yeah, that's a no one I see Shit, you can say that again Everything's always tighter out here at Enclave Enclave here Enclave here Have a nice day Have a nice day This is Enclave maincom Enclave here This is Enclave maincom This is Enclave maincom Quanto manca? 96 giorni Ok Siamo là Perfetto Questo 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 Perché non funziona il vostro video? Abbiamo avuto un pistola che si accettano qua sotto. L'abbiamo vinto. Chi è questo? Il Presidente? Perché non funziona il vostro video? Questo è l'enclave Maincom. Qu'è questo? Unclave qua! Unclave? Qu'è questo? Qu'è questo? Qu'è questo? Qu'è questo? Il Presidente sta guardandoci come un foglio. Ah, questo è un no-one. Ah, questo è un no-one. Dove è finita. No. La New California Public è stata massacrata. No. Signore. Credo che... ...i soggio... ...ossa... ...inia... ...abbiamo sconfitto la New California Public. Un grande risultato. E adesso... ...riorganizzo le gruppe. Organizzo tutto. E ci vediamo. A un prossimo episodio. Ciao ragazzi.